La Sprea Depositi SRL è una società privata che lavora a fianco degli agricoltori da più di 50 anni e fa capo alla famiglia Dino Sprea. Il core business è rappresentato dal commercio di prodotti per l'agricoltura e di prodotti petroliferi, con un'attenzione particolare alla formazione dei propri tecnici commerciali e alla qualità del servizio offerto alla clientela. La nostra azienda commercializza agrofarmaci, fertilizzanti, sementi, granaglie, prodotti biologici, insetti utili e ha la gamma completa di prodotti petroliferi. La nostra sede è a Villa Fontana di Bovolone, poi abbiamo un punto vendita in Valpolicella a Domegliara e un altro a sud di Verona e Derbe che confina con la provincia di Mantua. Seguiamo praticamente molte culture, le più importanti sono le orticole in genere, i cereali come mais, il grano, la soia, il kiwi, la vite, il pesco e il riso. Il fatturato raggiunto nel 2012 supera i 30 milioni di euro e abbiamo un portafoglio clienti con più di 2.000 nominativi attivi, seguiti da 13 tecnici commerciali. Il nostro obiettivo è consolidare ed espandere ancora di più la nostra presenza nelle province di Mantua e Verona. Anche se il settore cerelicolo quest'anno ha avuto problematiche notevoli dal punto di vista sanitario, la nostra volontà è quella di incrementare gli investimenti nel servizio del ritiro, stoccaggio, essiccazione e commercializzazione delle granaglie, perché riteniamo questo settore strategico per i cereali e per la soia. Chi ci contatta può trovare un'azienda che si pone nei confronti degli agricoltori in modo serio e professionale e che guarda anche allo sviluppo aziendale dei propri clienti. La Sprea Depositi SRL partecipa alla Fiera Agricola di San Biagio dal 2 al 5 febbraio 2013 a Bovolone e vi aspetta allo stand 3336.